ecco allora partiamo sia dalla registrazione allora riprendiamo con altre due erbe che appartengono alla famiglia delle asteraci di cui questa prima uno dei nomi volgari più usati è il piattello poi ne vedremo adesso fra poco anche altri che è l'ipocaeris radicata all'inneo nel 1753 quindi questa è una scheda in cui vengono raccolte tutte le appunto le caratteristiche di questa erba dall'etimologia alla descrizione gli habitat le sue proprietà e naturalmente anche l'uso in cucina nome scientifico abbiamo detto ipocaeris radicata la famiglia asterace nome volgare costolina costola d'asino o costa d'asino addirittura in grassa porci scarnetta viattello cioè tutti questi nomi hanno un loro significato ad esempio il nome del genere fa riferimento allora qui parliamo del nome scientifico quindi all'apprezzamento dei maiali che in greco si chiamano coiros per le parti sotterranee della pianta mentre quello della specie alla posizione delle foglie innestate sostanzialmente sulla radice i nomi comuni fanno per lo più riferimento alla posizione appiattita sul terreno dalle foglie quindi piattello all'evidente nervatura quindi costola o all'essere pianta ricercata dai maiali appunto in grassa porci la descrizione qui è una descrizione molto diciamo semplificata quindi le sue foglie sono carnosi croccanti di un bel verde più o meno acceso coperte da una impercettibile peluria la peluria la potete osservare a occhio nudo si nota poco ma se prendete una di quelle lenti di ingrandimento si nota benissimo a differenza delle altre cicorie non cresce in altezza ma rimane sempre schiacciata a terra è specie polimorfa cioè la ritroviamo in forme diverse a seconda dell'habitat quindi a seconda anche del terreno del terreno se è più o meno organica sostanza organica calcare eccetera così che nella sua classificazione in passato non è stata uniforme presenta un rizoma legnoso ingrossato e radice affittone con innestate le foglie raccolti in rosetta pelosette aderenti in autunno inverno al terreno di forma spatolata e con margine variabile all'interno o quasi al lobato lobato quando questa parola compare spesso nella terminologia botanica sta a indicare anche nella terminologia micologica sta a indicare una struttura tipo il lobo degli orecchi diciamo con evidente costolatura alta anche oltre gli 80 centimetri presenta dalla primavera uno o più caratteristici assi florali glabri e glauchi glabri significa che è liscia e glauchi significa che ha una colorazione tendente al verde quindi da colorazioni un po' sul grigio verde poi tende fortemente al verde diritti senza fogli con ramificazione in alto e tipici cavolini a fiori di un giallo intenso i frutti sono aceni con pappo quindi tipo per tutte le asteracee no? abbiamo visto le asteracee quando dopo il fiore praticamente c'è la parte la parte dei semi che compaiono nel soffione sono tutti soffioni più o meno grandi e quindi è da lì che poi si disperderanno i cosiddetti semi aceni in gergo aceni le parti aeree della pianta se c'erano un ladice amarognolo innocuo come in tutte le asteracee quindi abbiamo visto appunto i crespigni abbiamo visto nella ginestrella che se c'erano tutti un ladice praticamente bianco che a volte dà anche un sapore gradevole alla pianta la pianta qui vediamo l'habitat è una pianta comune in tutta Italia isole comprese fino alla collina la costolina è tipica erbacea dei prati magri anche se adattabile a diversi suoi situazioni è una pianta perenne è molto diffusa in Italia e in Europa in genere fino al Caucaso leggerando senza problemi dal piano alla bassa media montagna a secondo delle aree proprietà le proprietà di questa pianta sono eccezionali adesso vedremo appunto quelle più importanti che tra l'altro sono quasi uniche in questa pianta innanzitutto antiossidanti poi vedremo queste proprietà da evidenze scientifiche e da ricerche fatte da scienziali appunto che ci confermano quello che poi ci raccontavano i nostri antenati che loro i quali usavano appunto queste piante non solo per nutrirsi ma anche per curarsi ma lo facevano appunto in modo empirico oggi invece la scienza ci conferma appunto certe credenze più che credenze diciamo certi usi anche per curarsi che l'anti la parola che l'ante sta a significare sono capaci di smaltire all'organismo i metalli pesanti e noi di metalli pesanti giornalmente ne assumiamo diversi soprattutto dagli alimenti che si acquistano diciamo nei supermercati soprattutto depurative, antibatteriche, colacuche, aiutano l'espulsione della bile, emollienti, digestive, amaricanti, toniche in medicina popolare questa pianta era utilizzata in particolare come antidiabelico il guerrera nelle sue ricerche ha evidenziato questa proprietà l'importante ricerca pubblicata sul journal che è un riferimento diciamo mondiale nel luglio del 2012 dal titolo screening of vitro antioxidant activity dell'ipocaeris radicata L.linneo condotta da sempre questo ricercatore ed altri ha dimostrato come questa pianta selvatica abbia una ricchezza inesplorata è stato condotto uno studio in vitro confrontando le varietà di questa pianta con alcuni nodi antiossidanti sono state fornite prove scientifiche che dimostrano la validità degli usi tradizionali di questa pianta che per simpatia continuiamo a chiamare costole d'asino appunto per le sue nervature sembra appunto una costola d'asino in base ai risultati ottenuti con questo studio si è concluso che gli estratti metanolici delle foglie delle radici di questa di questa specie possiedono significative attività antiossidanti e chelanti nello studio sono stati confrontati gli effetti con alcuni potenti e chelanti e potenti chelanti come ad esempio la vitamina C e l'EDTA l'EDTA praticamente lo trovate con questa sigla anche negli alimenti che si acquistano ad esempio nelle confezioni di pesci ad esempio che è in barattoli anche con in barattoli sia in vetro che in metallo quindi è un chelante sintetico la presenza di un'adeguata quantità di composti fenolici e di flavonoidi possono spiegare questa efficacia i composti fenolici sono noti per loro attività naturalmente antiossidanti questo ce lo confermano i due ricercatori sono molti importanti i costituenti vegetali a causa delle loro capacità si chiama scavangere cioè che fa che fa pulizia che è dovuta ai loro gruppi ossidilici ad Anon che questo ricercatore nel 1989 ha evidenziato appunto queste caratteristiche inoltre nella pianta ipocoeris radicata un ruolo importante lo svolgono gli ionioferrosi quindi questi risultati di questo studio confermano come ritenevano i nostri nonni che questa pianta ha un potenziale fonte naturale di antiossidanti anche con attività chelanti quindi forse è una delle pochissime piante che ci offrono appunto queste proprietà quindi antiossidanti e chelanti lo stesso studioso ha pubblicato nel 1213 sempre su un giornale vedete importante anche un altro intrigante studio dove dimostra l'attività antibatterica potentissima di questa comunissima piantina dei campi e questa la ritorniamo a vedere che se lo merita non è diciamo non è facile non è difficile ma neanche molto facile però quando si focalizza l'attenzione su quei particolari morfologici che abbiamo messo in evidenza da cui poi prendono i nomi diciamo dei nomi volgari vedete queste costolature molto evidenti queste nervature diciamo poi è un piattello praticamente la pianta anche a maturazione nella sua crescita non si alza molto dal terreno come tante altre asterace e rimane appiattita appunto da qui il nome di piattello e poi vedete anche questa colorazione verde verde brillante e pelosetta e se la guardate bene insomma l'avvicinate si nota anche quindi però se si porta anche una una lente di ingrandimento si vedono benissimo anche per altre erbe è importante la lente di ingrandimento in cucina allora le foglie basali da giovani naturalmente vengono utilizzate sia crude in insalata sia cotte per minestre zuppe frittate e torte salate naturalmente quando si cuoce quest'erba la sua vitamina C in una bella concentrazione di vitamina C viene persa come sapete una grande quantità di vitamina C in tutti i prodotti che la contengono quando viene riscaldata qui per esempio la famosa rosa canina le bacche di rosa canina che hanno un'altissima concentrazione di vitamina C poi se ci fate le confetture la fate bollire naturalmente va persa in grandissima quantità le rossette basali si raccolgono da fine marzo a tutto giugno quando sono ancora tenere quelle raccolte più tardivamente a volte fino all'inizio dell'inverno sono più piccole un po' più dure e di gusto questo è il periodo buono diciamo perché la natura quest'anno adesso poi dipende naturalmente da abitat abitat ecco importante che quando l'avete trovata su un prato quindi un prato buono non diciamo non antropizzato vi ricordate e lì ce la troverete sempre l'uso alimentare crudo di questa pianta nell'insalata di campo si unisce alle altre cicorie quindi il solito mix di crespigno caccialevre i crespigni e caccialevre sono le dolci tarassaco è la dolce è la quella un po' amaretta la pimpinella la pimpinella non l'abbiamo vista la vedremo nelle prossime elezioni praticamente è una di quelle erbe che c'è il proverbio dice l'insalata non è bella se non c'è la pimpinella che con i suoi sapori retro gusti dà un tocco diciamo molto gradevole ai nostri la nostra gastronomia ai nostri cibi la rossetta basale costituisce un piatto di verdura particolarmente saporita e piacevolmente amarognolo la pimpinella e il pimpinellone sono molto simili scusate l'interruzione sì le vedremo comunque perfetto sì allora pimpinella la sanguisorba minor il nome scientifico il pimpinellone invece è il tordillium apolum la similità diciamo dei due nomi deriva dal fatto che la foglia della pimpinella la foglia del pimpinellone hanno una hanno una struttura una forma quasi uguale la differenza notevole è che il pimpinellone ha la foglia pelosa più verde diciamo più chiara e ha un sapore un odore nettamente diverso dalla pimpinella perché la pimpinella ha un retro gusto poi lo vedremo retro gusto di noce di mallo di noce il pimpinellone invece ha un retro gusto di cetriolo ma ha un odore buonissimo è unico proprio odore di noi diciamo di pimpinellone per questo poi vedremo sarà una base anche delle misticanze quando approfondiremo anche il discorso della cucina di queste erbe grazie prego queste caratteristiche organolettiche sono ancora più evidenti quanto la pianta è ancora giovane autunno-inverno mentre d'estate le sue foglie diventano un po' ispide fibrosi e insipide e infatti ecco adesso è il periodo ancora che può andar bene poi naturalmente come sapete tutte le le piante erbace come diciamo noi vanno a maggio quindi cominciano a fare i fiori quindi la rosetta basale scompare quindi non è più quella quella diciamo di primaverile oppure si ritrova anche ottima rosetta basale per molte specie anche a fine estare quindi inizia l'unno fino all'inverno eccetera ma si possono ancora utilizzare cotte dopo aver mondato le piantine da eventuali foglie e a pastille naturalmente prima c'è tutta la parte quella che noi chiamiamo la cavatura qui la mondatura che è la stessa cosa le si possono preparare le esse e condire con olio anche la radice è commestibile ma richiede un po' di lavoro per mondarla ma io dico la verità ne ho mangiato molta di questa erba ma le radici non le ho mai usate le radici eventualmente io se mi va di mangiare qualche radice buona prendo quella del tarassaco che è la migliore le sue foglie e le radici cotte possono essere utilizzate per delle zuppe insieme a altre erbe selvatiche come nell'acqua cotta oppure nelle zuppe di verdure o per le frittate o anche nei tortini rustici a differenza delle altre cicorie di campo dopo la cattura la cottura riduce di poco il suo volume dopo averle l'estate le si possono utilizzare anche condite con olio aceto buonissime quindi più che l'estate diciamo dopo ricordatevi sempre che vanno messe in padella con un po' umide quindi dopo l'ultima sciacqua dura non strizzate quindi con una base di prima di olio e di di aglio naturalmente e quindi si fanno si fa fare l'acqua e con un coperchio quindi si si mantiene appunto quest'acqua per farle cuocere meglio e quindi possibilmente non farle lessare quindi perché perderebbero tutte le loro diciamo proprietà più importanti oltre alla clorofilla perdono anche tanti sali minerali e sappiamo vitamine eccetera oppure ripassate in padella con aglio con olio aglio e un pizzico di peperoncino le regioni del sud e questa erba si usa anche in un piatto unico con i legumi e le patate e le sale queste moltissime erbe qui facciamo entrare due ecco qua quindi si può aggiungere del finocchio selvanico anche questo è importante quindi dipende sempre da dalle e le cucine no? territoriali il ferro contenuto nella pianta abbassa il carico glicemico compressivo di un piatto altrimenti troppo zuccherino anche questo possedeva infatti era una pianta che veniva usata proprio per combattere la la glicemia alta ecco questa è una vellutata di piattello le vellutate fanno molto bene al nostro organismo in particolare se consumate di sera quindi ingredienti 800 grammi di piattello o costolina tre foglie di borragine poi sulla borragine ci faremo una lezione importante perché poi vedremo che la borragine bisogna mangiarne pochissima quantità perché contiene dell'alcaloidi epatodossici cosiddetti pirrolizidinici che regalmente se mangiate in quantità danno problemi al nostro fegato alcuni pomodori o 200 grammi di polpa pronta olio e burro quanto basta una cipolla piccola alcune patate del brodo vegetale uno spicchio d'aglio maggiorana fresca peperoncino e qui c'è la preparazione quindi si lessa per qualche minuto le patate sbucciate a dadini o a fette sottili la borragine il piattello e poi frullare o tagliare finalmente al mixer rosolare nel frattempo con olio e burro in una padella dai bordi alti una cipolla finemente tritata uno spicchio d'aglio da togliere non appena prende colore della maggiorana fresca e se piace del peperoncino poi si aggiunge al soffritto le verdure il pomodoro e salare fare cuocere aggiungendo il brodo vegetale fino a ottenere la densità gradita per quanto riguarda il brodo vegetale feci un post tempo fa sui miei canali sia su facebook che su whatsapp dove è un procedimento dove usando prima di tutto prodotti biologici quindi vegetali verdure biologiche poi si possono fare dei cubetti dei cubetti e abbatterli e congelarli quindi quando serve questo brodo vegetale senza star lì aspettare mettere bondare tutte le verdure far bollire l'acqua inserirle eccetera si fa scaldare l'acqua si mette questo che sarebbe l'equivalente del CONOR del dato questo però è un dato biologico poi vi farò vedere la procedura è una bella differenza è una bella differenza esatto quindi lì ci stanno altre cose che non è che fanno bene nel nostro organismo servire la vellutata nel piatto su classini di pane sfregati con aglio eventualmente dorati a parte aggiungendo olio a crudo Luciano scusi tanto mia sorella è uscita perché c'è stato in temporale non riesce a rientrare può farla perdere allora forse era questa stava in alto non so se vediamo se io ho messo una persona ma non ho visto il nome poi eventualmente forse era lei ecco se mi fai sapere salve sono sono forse io con Lucia Valentini ah sì ero già entrata prima ma qua c'è stata una bomba d'acqua praticamente mi ha fatto saltare tutto quindi mi si è scollegato chiedo scusa no no va bene tu dimmi se ci stanno problemi poi risolviamo no per adesso ha spesso di piovere però ha tirato giù veramente non lo so adesso vediamo invece la ecco qui c'è chiedi ecco sì allora c'è la calendula selvatica c'è quella officinalis che è la calendula che si coltiva che però ha un fiore un po' più arancione questa invece è la calendula arvensis quindi dei campi e viene usata io personalmente non uso la foglia perché ha un sapore che non non gradisco molto ma c'è anche chi la usa insomma nella cucina quello che invece viene molto usato e che uso anch'io è il fiore poi vedremo appunto quali sono le proprietà questa è facilmente riconoscibile tra l'altro adesso vedremo anche perché si chiama calendula la sua etimologia e quindi se andate in questo periodo negli oliveti ma anche in altri campi in particolare negli oliveti praticamente la noterete quindi noterete subito questo fiore che si è se si apre appena quindi prende il sole prende la luce e si richiude diciamo nel pomeriggio quando non c'è più sole quindi la calendula è una pianta erbacea annuale quindi si secca poi rinasce con i con i semi appunto che distribuisce gli steli della calendula possono aggiungere un'altezza anche di 70 cm e presentano diverse ramificazioni a cui termine si sviluppano fiori di colore giallo-arancio raccolti in capolini sono proprio quest'ultima a costituire la droga quando si dice droga è la parte più importante quindi non vai a interpretarla come nel senso diciamo che non è non è quello giusto quindi quando si parla di droga si parla dei suoi come dire principi attivi i suoi eh fitocomplesso quindi la parte diciamo medicinale no? della della pianta di interesse cosmetico o e fitoterapico quindi terapia pianta che serve anche come terapia ricavata dalla pianta sull'etimologia del nome ci sono diverse versioni la più accreditata è quella che sostiene che il nome derivi dal latino calende cioè primo giorno del mese per indicare che fiorisce il primo giorno di ogni mese per buona parte dell'anno però è questo in senso figurato cioè vale a dire che fiorisce tutti i mesi in genere ad aprile a novembre una volta al mese quindi la troverete sempre da adesso fino a novembre troverete sempre la calendula in nei posti appunto che che preferisce la calendula per la salute la calendula contiene calendulina quindi questo principio attivo che è una gomma un olio essenziale colorante acido salicinico mocillagine e possiede proprietà antisettiche diuretiche cicatrizzanti sudorifere e depurative infatti è molto semplice fare o un oliolito oppure una crema di calendula infatti per un uso esterno questa è una semplicissima ricetta si prendono 100 grammi di fiori di calendula secchi mezzo litro di olio di mandorle dolci ma si potrebbe usare anche un ottimo olio extravergine di oliva biologico poi si mette la calendula in un barattolo di vetro dotato di un coperchio ermetico si coprono scoprite i fiori si coprono i fiori con l'olio e si chiudono e si chiude il barattolo una volta al giorno si scuote il barattolo dopo 30 giorni filtrato l'olio attraverso una tela leggera una calza spremere il residuo conservare in una bottiglia di vetro scura per non far prendere la luce e in un luogo fresco e possibilmente al buio l'olio litro di Kenda è utile per la sua azione cicatrizzante e antinfiammatoria favorisce la rigenerazione della pelle ed è un ottimo lenitivo e calmante utile anche per le dermatite da pannolino è un po' l'equivalente dell'iperico di cui parleremo più avanti che è la cosiddetta erba di San Giovanni infatti il 23 il 23 giugno che è la diciamo tutti gli anni organizziamo diciamo la questa questo evento per festeggiare appunto l'entrata diciamo della giornata di San Giovanni poi spiegheremo anche perché e raccoglieremo l'iperico e faremo anche l'olio litro di iperico che è una delle piante più ricercate da chi appunto produce questi prodotti in particolare qui in Umbria abbiamo una un'azienda aboca che è conosciuta penso in tutta Italia che fa molta pubblicità anche sui canali televisivi che ne usa ne usa moltissima ne usa moltissima per fare i suoi prodotti diciamo per soprattutto per le ustioni quindi anche la calendula per la bellezza la calendula per la bellezza l'olio di calendula è utilissimo per gli arrossamenti della pelle le irritazioni cutanee dei bambini scottature comprese quelle solari o da freddo ferite contusioni ulcerazioni ezemi cioè tutti i problemi che riguardano appunto la nostra pelle geloni posso fare una domanda sì durante i 30 giorni in cui i fiori devono rimanere nell'olio di mandorle dolci anche in questo periodo il vetro deve essere scuro e messo in luogo no 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 questi no prima no dopo quando è stato praticamente filtrato quindi è stato perché la funzione dell'olio è quella è l'iposodulbile è quello di estrarre i suoi principi attivi quindi una volta che li ha estratti praticamente non vanno degradati e quindi sappiamo che la luce poi dà problemi di degradazione anche riferimento anche all'olio extravergine di oliva se lo tenete in un contenitore in una bottiglia chiara praticamente si ossida facilmente invece è preferibile no questa quindi la calendula per la bellezza eh quindi l'abbiamo detto eh ecco qui la calendula per la cucina come dicevo prima la la calendula in cucina questa l'abbiamo fatto diverse volte quando facciamo gli eventi per riconoscimento le erbe dove l'evento eh consiste ormai lo facciamo da quasi dieci anni una giornata generalmente una domenica che si è più liberi c'è una mostra eh spiegazione delle erbe della stagione che poi si ritroveranno anche nei percorsi successivi quindi dopo la dimostrazione successivamente andremo a ricercare queste erbe quindi le cercheremo di determinarle poi si torna eh si torna e si si determinano queste erbe quindi pulendole si fa vedere anche come si puliscono qual è il modo migliore per pulirle per prepararle per poi consumarle per poi mangiarle ecco questo è un piatto che abbiamo preparato che facciamo spesso utilizzando prodotti selvatici come l'ortiga quindi le crepes che vengono fatti con l'ortiga e ripiene di rigotta del pastore la rigotta del pastore nelle nostre zone col fiorito ci sono ancora pastori come una volta che ancora fanno la rigotta non pastorizzata quindi con i sapori che si conoscono diversi da quelli che troviamo in supermercati pastorizzata poi ci sono fiori di carendura che danno contorno ma che praticamente le loro proprietà le trasmettono in parte non è che hanno dei sapori particolari però servono per dare un po' di colore di bellezza a questi piatti ecco chi dà invece la parte importante nutrizionale è l'ortiga è l'ortiga e come vedremo più avanti nelle lezioni successive è una delle piante diciamo che ha più proprietà salutari e quindi va va raccolta e mangiata ecco c'è anche la qui una ricetta di un risotto con calendula ingredienti per quattro persone un risarborio di 300 grammi due cipollotti io ho messo tropea perché preferisco questi un cuore di sedano verde possibilmente tutto biologico una carota brodo vegetale poi un formaggio a pasta morbida o robiola o stracchino 30 grammi quattro valendo le spontanee la la preparazione si puliscono i cipollotti e si tagliano a fettine poi si trida il cuore del sedano comprese le foglie della carota poi si fa soffriggere dolcemente il tutto per 5-5 minuti in una pentola con due cucchiai di olio extravergine oliva e un mestolo di brado vegetale unite il riso fatelo tostare cuocete per 15 minuti mescolando di tanto in tanto e aggiungendo il brado bollente poco alla volta poi tagliate a tocchetti la robiola staccate i pedali alle calendule e unite tutto il riso cuocete per altri due minuti saporire con la macinata di pepe nero e servire ecco con questo ho finito la presentazione delle asteracee poi ci ritorneremo più avanti su qualche asteracea che è tipica anche della regione quindi della stagione però per il momento interrompiamo la presentazione delle asteracee e vediamo invece la famiglia delle brassicacee o crucifere poi vedremo perché venivano chiamate crucifere crucifere poi lo diciamo subito perché hanno il fiore a croce sono quattro pedali a croce brassicacee voi conoscete no? tutte le la famiglia dei cavoli no? poi le vedremo tutti i cavoli che poi fanno molto bene al nostro organismo come ci dicono tutti i nitrazionisti beh questi sono i precursori dei cavoli i cavoli sono nate da queste piante spontanee brassicacee che adesso vedremo con le loro qualità sia alimentari sia qualità diciamo gastronomiche allora qui vi ricordate questo è lo spaccato del dell'albero tassonomico delle delle piante e il regno d'accordo il regno delle piante abbiamo detto che non ci interessa a questo livello di corso la divisione classe e ordine ma partiamo dalla famiglia la famiglia abbiamo visto le asteraci le abbiamo viste nello spaccato del loro albero tassonomico e per le brassicacee vedete che qui sposto un attimo ecco per le brassicacee vedete che tratteremo genere diplotaxis con due specie diplotaxis erucoides e diplotaxis tenuifolia che sono le due rughette selvadiche poi abbiamo l'aliaria in particolare abbiamo il genere aliaria pietolata o aliaria nome volgare che tutto ci fa pensare all'aglio infatti vedremo lo vedremo anche in questa lezione che si usa molto in sostituzione dell'aglio anche in cucina poi abbiamo il genere bunias il genere bunias che ha sotto la specie bunias erucagos che sarebbe quella che noi in Umbria chiamiamo cassella in altre parti diciamo regione limitra la chiamano anche cascellore poi abbiamo la capsella quindi dove avremo l'unica specie capsella bolsa pastoris la bolsa cosiddetta bolsa del pastore poi vedremo perché la forma del frutto richiama la forma della bolsa del pastore poi abbiamo la algenere sinavis e avremo la specie sinavis arvensis sarebbe la senave selvatica la calepina calepina irregularis o calepina avremo poi alla fine anche il nasturzio nasturzium officinale che è il cosiddetto crescione d'acqua ecco quindi in queste lezioni successive a partire da oggi vedremo appunto queste specie di erbe più pregiate appartenenti alla famiglia delle brassicaci come vedremo fra poco ha moltissime proprietà interessanti da un punto di vista nutrizionale come vedete ecco nell'introduzione le brassicaci spontanea naturalmente noi trattiamo e sono i progenitori selvatici abbiamo detto della famiglia dei cavoli quindi quando diciamo cavolo cavolfiore cavolo cappuccio verza cavolo rosso cavolo nero cavolo riccio broccoli cime di rava cavolini brusselle ma anche la rucola rava ravanello e senape le brassicace sono conosciute anche come crucifero abbiamo detto infatti vedete sotto in questa foto questa è la diplodaxi erucoides che ha il fiore bianco a croce per la loro forma a croce e dei loro fiori quindi fiore di rava stella noi chiamiamo anche rapastella perché ha un po' il sapore di rava quando si cuoce poi vedremo perché è il sapore di rava dalla sua struttura diciamo molecolare quindi ecco vedete bene questa guardate bene questa foto e questa si ritrova spesso in tutte le stagioni dipende molto anche da dai terreni su cui cresce se sono umidi se ha piovuto e a volte vedete i campi che sono tutti bianchi dei loro fiori è un infestante quindi le brassicacee sono una famiglia con interessanti proprietà salutistiche e nutrizionali grazie all'evento all'elevato contenuto di fitocomposti cioè quelle sostanze biattive estremamente benefiche per la nostra salute nelle nostre erbe spontanee si saranno ancora più presenti cioè i cavoli che noi abbiamo visto coltivati hanno le stesse molte molecole coincidenti con quelle che sono presenti nelle nostre erbe spontanee ecco tra i principali fitocomposti presenti ci sono i glucosinolati e si sono composti contenenti azoto e zolfo i quali svolgono la funzione di difesa cioè per le nostre erbe spontanee questo azoto e zolfo serve a loro per difendersi da attacchi esterni da afidi eccetera perché vedremo c'è una reazione chimica che cosa che cosa genera questa reazione chimica sono conservati nei vacuoli nei vacuoli sono dei piccoli magazzini presenti all'interno delle cellule allo stato inattivo quando la pianta viene danneggiata dall'attacco di un parassita o da un'azione meccanica i glucosinolati fuori riescono ed entrano in contatto con un enzima che si chiama la microsinasi che attraverso un processo di idrolisi enzimatica porta la loro conversione in isoticianati e tiocianati indoli e nitrini che significa in poche parole quando se voi prendete la la rughetta selvatica ma anche la rucola quella coltivata in particolare la rughetta selvatica se voi la 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 mettete tra le dita no e la 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 schiacciate sentite subito l'odore e questo è il fenomeno praticamente perché la mirosinasi attraverso questo processo tira fuori diciamo questi odori è la zoo dello zolfo praticamente che genera particolare lo zolfo quindi sia l'odore particolare che emanano le nostre bassicace quando vengono cotte quindi è nota qualcuno dice questo cattivo odore questa puzza quando fa bollire questi questi cavoli sia la loro piccantezza da crude tipo appunto il caso delle delle abbiamo detto della tipo taxis erucoides e quella tenuifoglia cioè le rughette selvatiche addirittura quando si riproducono queste rughette selvatiche in particolare la tenuifoglia sentite l'odore anche a qualche metro di distanza sono conseguenza della presenza di tale sostanza i glucosinonati sembrano correlati far ovviamente a una ridotta insorgenza di patologie tumorali del tratto digestivo e una dieta ricca di queste sostanze è considerata con favore dai nutrizionisti infatti i nutrizionisti ci consigliano sempre più spesso di nutrirci appunto con i vegetali in particolare con questi vegetali con questo gruppo dei cavoli curiosamente alcuni studi mostrano che la somministrazione di glucosinolati isolati eppuri non comporta gli stessi risultati favorevoli ottenuti con la loro assunzione attraverso fondi vegetali integrali segno che ancora molte cose restano da chiarire circa meccanismi di azione delle sostanze vegetali che l'uso di integratori alimentari non sempre equivalente a quello di un alimento completo composto di principi attivi sali minerali e biramine il cosiddetto filo complesso noi sappiamo che l'integratore alimentare è una sintesi diciamo di molecole estratte estratte da sostanze vegetali che danno la possibilità di rendere diciamo questa pasticca ricavata in modo sintetico in modo chimico di avere una grandissima quantità di quel principio attivo facciamo l'esempio poi lo vedremo è uno delle erbe diciamo che hanno più valore medicinale appunto è il cardomariano cardomariano perché contiene la silimarina il suo principio attivo è silimarina ma insieme alla silimarina contiene anche tante vitamine tanto ferro per cui se noi ingeriamo abbiamo bisogno della silimarina perché il medico ci ha ordinato abbiamo il nostro fegato che è messo male allora dice guarda devi prendere queste pasticche perché diciamo è un è un principio attivo che fa molto bene al fegato però noi ingeriamo solo solo la silimarina se invece noi assumiamo tutta la il cardomariano tutta la pianta assumiamo quello che si chiama il fitocomplesso e quindi con tutti i suoi principi attivi con tutti i sali minerali e vitamine questo è importante no? cioè naturalmente per curarci non è sia sufficiente mangiare quell'erba puoi mangiarla sempre tutti i giorni non è che sia proprio consigliabile come tutte le cose poi vedremo è la dose che fa il veleno perché non bisogna mai esagerare non nell'alimentazione in particolare nei funghi chi si interessa dei funghi appunto sa che vanno mangiati a pasti distanti tra di loro in poiché la quantità quindi le caratteristiche nutrizionali delle brassiche ci sono dei vegetali interessanti anche da un punto di vista nutrizionale perché perché sono calorici addirittura siamo al di sotto delle 30 chilocalorie per 100 grammi presentano un buon contenuto di vitamina A vitamina C e vitamina K questa è fondamentale oggi si parla sempre sempre di più della vitamina D abbinata alla vitamina K o K2 ci sono tantissimi integratori alimentari oggi che vengono venduti proprio per dare sostegno al nostro sistema immunitario attraverso questo abbinamento di vitamina D che noi dovremmo prendere adesso con la stagione buona dal sole no? come sapete oltre che di minerali quali calcio potassio magnesio e fosforo anche questi sono tutti minerali fondamentali no? per il nostro benessere ecco questo questa è la ravastella bianca riprendiamo vedete l'immagine dove si notano appunto queste particolarità questa struttura morfologica naturalmente i fiori ci dicono subito appunto quando vediamo la pianta fiorita siamo in grado di determinarla in modo semplicissimo no? è una brassicacea o crucifera ora l'etimologia di questo nome trae origine da due diciamo da due parole una in greco diplos significa doppio taxis significa fila diplotaxis per la sua disposizione dei semi in due file nella siliqua la siliqua praticamente è un frutto tipo un bacello quindi tipo una fava tipo un bacello qualunque il nome della specie si riferisce alla somiglianza con la piante del genere eruca eruca sono sempre le le rughette quelle che si coltivano le ruccole l'habitat la piante infestante delle cerealicole della bietola quindi delle cereali e delle culture erbacee in generale vigneti da 0-800 metri è molto comune anche negli olivedi e anche negli incolti negli orti ad esempio chi ha un orto o un campo vicino a casa sicuramente ci trova in un certo periodo questa diplotaxis che noi chiamiamo anche la rapastella bianca a differenza dell'altra rapastella vedremo più avanti la rapastella gialla che è la sinavi sarvensis cioè la sinope selvatica cresce principalmente in inverno e di sicuro non passano insorbate le sue abbondanti fioriture il fiore ha una corolla di quattro pedali bianche e venatura violacea infatti viene chiamata anche la rughetta violacea alla fine della fioritura tutto il fiore diventa violetto e da questo la dicitura violacea quindi come abbiamo visto prima il nome il nome il nome è volgare ravastella bianca o rughetta violacea o addirittura marascioli marascioli in al sud molto è molto utilizzato al sud ci si fanno anche delle dei dei piatti importanti poi credo ce n'è uno l'ho messo infestante quindi abbiamo una piatta erbacea annuale alta 20-60 cm le foglie sono ovali allungate quindi non raccogliere quando arriva a 60 cm perché la foglia poi comincia diciamo a essere dura coriacea quindi bene raccogliere proprio quando comincia a fare magari il primo fiore le foglie avete visto la struttura morfologica sono ovali allungate hanno una rarissima peluria le basali possono arrivare anche a 15 cm di lunghezza in cucina le rughette selvatiche usate da giovane le misticanze per dare il sapore di rucola in particolare i fiori sono molto piccanti e saporiti e adornano il piatto quando la trovate provate ad assaggiare a masticare qualche foglia sentite proprio il sapore di rucola se puoi mettere in bocca anche il il fiore praticamente è piccantissimo proprio addirittura sembra anche più piccante del peperoncino è ottimo anche nel pesto crudo quindi un pesto un pesto crudo si può fare con tante erbe di stagione se ci si mette un po' di rughetta gli dà un tocco particolare più più saporito e quindi come dicevamo il pesto è molto semplice da usare e poi una volta fatto uno lo può mettere in frigorifero può durare anche sette otto nove giorni è semplice basta prendere un mixer si mette dentro l'erba un mix di erbe tra cui se c'è la rughetta meglio ancora si mette qualche qualche diciamo frutto un po' di noci nocciole quelle che si hanno a disposizione anacardi eccetera e l'olio naturalmente si fa il mix poi se si vuole aggiungere anche il parmigiano non è necessario allora diventa anche un piatto proprio anche per per chi è vegano è ottimo quindi per fare i condimenti di pasta oppure per fare dei crostini quindi mista con altre erbe come la pimpinella il pimpinellone il cacelebre frutta secca e olio extravergine di oliva si crea appunto questo festo nella tradizione umbra viene consumata anche lessata ripassata in padella con olio aglio peperoncino e pomodoro ecco questa è una ricetta pugliese infatti nel sud la chiamano guassetto di marascioli è molto pregiata molto cercata e molto apprezzata più che da noi probabilmente quindi ingredienti per quattro persone 500 grammi di rucola violacea quindi tipo taxis e ruccoides 200 grammi di pomodoro fresco 250 grammi friggitelli friggitelli sono quei peperoncini i peperoni piccoli che sono dolci quindi che hanno sono peperoni nani piccoli di colore verde dal sapore dolci 500 grammi di burrata 2 spicchi d'aglio un cucchiaio di polvere di pomodoro secco 100 centilitri di olio per la preparazione è molto semplice si puliscono e lavano le foglie di rucola violacea mettendo da parte qualche fiorellino importante perché gli da quel pizzicore che ci sta bene che sarà utile per la guarnizione del piatto oltre che per quello fate arrossire il forno il pomodoro quindi si fa si mette in arrosto il pomodoro si potrebbe fare anche invece che il forno si potrebbe fare anche in una padella per intero 180 gradi per 20 minuti nel frattempo mettete a soffriggere l'aglio in padella con un po' d'olio e aggiungete i frigidelli tagliati a listarelle e mondati dal pedungolo e dei semi interni quindi lasciatele appassire leggermente e aggiungete le foglie di rucola fate saltare per 10 minuti e unite infine i pomodori arrostiti in forno saltate tutti insieme per 2-3 minuti servite il qualsetto a tiepito con uno spicchio di burrata che avrete precedentemente tagliato in 4 parti su cui andrete a spolverare il pomodoro secco concludete con un giro di olio e guarnite con i fiori della rucola tenuti da parte questa è una foto di una una trasmissione fatta nel 2018 ne facemmo 8 di trasmissione non so se conoscete il Giorgio Barchiesi famoso fuoco Giorgione che Giorgione che trasmette le sue diciamo ricette orto e cucina orto e cucina e le trasmette sul gambero rosso su 412 skype siamo molto amici da tempo quindi mi disse dice guarda devo fare della smissione di cucina di erbe spontanee mi accompagni e lo accompagnai e fece 8 praticamente 8 ricette di cucina poi trasmesse le ritrasmettono spesso sempre sul canale 412 mi ricordo che in questa occasione mi chiedeva di fare una cucina con delle erbe anche dove c'era un po' di rughetta in quel periodo la rughetta quella più forte che vedremo adesso la tenuifolia non c'era e quindi io prendiamo questa e quindi tra i piantoni questo è l'habitat ideale tra i piantoni andranno a raccogliere circa più di 25 specie di erbe per fare queste queste cucine ecco questa è invece la rughetta selvatica tipo taxis erucoides e tenuifolia questa pensate questa è la foto fatta a casa lì in montagna di Colciorito dove poi faccio i corsi sulla praticamente l'uscita la raccolta di conoscimento di erbe che nasce mi nasce tutti gli anni questa è una colonna di un portico e tra la colonna il pavimento praticamente è iniziato ma sono tre o quattro anni che ci nasce praticamente e tutti gli anni fa queste già sono le parti secche poi dalla parte secca sotto rinasce questa pianta questa rucola e si sente l'odore da lontano poi dispredendo i semi l'ha fatta nascere anche da altre parti ecco come molte altre piante a limurgi la rucola selvatico è una pianta antropofila cioè nasce dove c'è la presenza dell'uomo ed è pertanto comune nelle sue si dette aree ruderali cioè caratterizzata l'azione modificata di scena di esseri umani redilige le posizioni assolate i campi gli incolti gli argini immagini dei pascoli e delle strade in pianura e in collina si tratta di una specie nitrofila ovvero che ama crescere in terreni concimati e ricchi di azzolo rispetto alla rucola normalmente disponibile in commercio che è l'eruga sativa la rughetta selvatica tipo taxis e tenuifoglia ha un sapore più forte come la rucola comune viene usata fresca per insaporire insalate misticanze nel pesto crudo oppure cotta ripieni minestroni super frittate cioè svolge la stessa funzione nella cucina che svolge la sua diciamo equivalente coltivata ma con un sapore molto molto più forti quindi ne serve anche un po' meno di quella coltivata anche i fiori di colore giallo sono eduli e anzi proprio i fiori presentano una maggiore pungenza come era il caso anche dell'altra rughetta il fiore è molto pungente il sapore è molto forte infatti dovuto al più alto accumulo di glucosinolati la predilezione per i terreni ricchi di azoto può portare anche un accumulo di nitrati sali non troppo graditi al nostro organismo se il consumo del prodotto fresco è contenuto è limitato ad attribuire sapore e miscere di altre verdure o se le foglie vengono consumate previa cottura il problema non si pone l'altra idrosolubilità dei nitratini è determina il passaggio nell'acqua di cottura riducendo il contenuto nelle foglie quindi se si si fa cuocere però questa non va cotta ma se si mette è sufficiente anche non ha la stessa diciamo capacità l'acqua fredda però se si mettono nell'acqua per 10-15 minuti anche essendo idrosolubili perdono un po' poi si risciacquano quindi perdono un po' di queste molecole ecco e qui passiamo invece a parlare dell'alliaria l'alliaria da cui il cui nome già ci fa pensare ad aglio infatti viene chiamata anche erba aglina questo è il periodo migliore questa è una foto fatta non questo periodo però delle zone dove mi nasce e me ne nasce anche molta lì nel parco di col fiorito sembra un po' vedete la foglia sembra un po' l'ortiga ma è tutta un'altra cosa sentite anche l'odore quando vi avvicinate poi vedete i fiori che sono delle crucifere quindi se ha fiorito non fate confusione sicuramente quindi è un'erbacea biennale arriva anche a 30-80 cm con fusteretto vegeta nelle radure umide e ombrose nei suoli concimati vicino alle case nei boschi e nelle sievi dalle zone marine fino a 1700 metri di altezza il nome del genere tra origine dall'odore e dal sapore di aglio della pianta l'origine non è ben nota perché la sua presenza risale antiche civiltasi europee che asiatiche e nordafricane era infatti rinomata tra i babilonesi e sin dal 3000 a.C. se ne consumavano grandi quantità tra gresci e romani si racconta che resti di all'aria siano stati trovati persino nella tomba di Tutankhamon il famoso faraone egizio nel nostro paese oggi è diffuso in tutte le regioni fatta eccezione per la Sardegna il suo habitat preferito sono i boschi di montagna ma è facile rimanirla anche lungo le zone collinari costieri il suo utilizzo è una pianta anti-asmatica anti-scorbutica quindi fa bene per chi ha carenza di vitamina C anti-starnuto diaforetica anti-scorbutica 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 per le preparazioni erboristiche la pianta è usata fresca in quanto con l'essicazione perde parte delle sue proprietà in erboristeria viene usata soprattutto per produrre un olio dalle proprietà spettoranti anti-scorbutica anti-scorbutica i semi che contengono un olio essenziale simile a quello della senave vengono utilizzati per insaporire le vivande e gli antipasti grazie alla loro capacità di stimolare l'appetito in cucina della pianta si mangia tutto le foglie i fiori freschi ma anche i semi che come ci mostra la tradizione inglese possono essere usati come succedano della senave bianca per il loro contenuto di olio essenziale la pianta si può raccogliere da aprile a settembre quindi questo è il mese è il periodo più bello ne ho diverse piante lì intorno da me e ogni tanto la prendo per cucinarci si possono mangiare i tene ricette primaverili prima della comparsa dei fiori e si possono tritare le foglie nell'insalata nelle frittate nelle torte salate oppure farne un pesto come si possono aggiungere lessate ad altre verdure anche i fiori lessate questa parola lessate mi piace sempre meno perché quindi ricordatevi sempre che non fatele bollire per 5-10 minuti nell'acqua bollente perché perdete molto sapore e proprietà fatta da cuocere con la loro acqua qualche diciamo goccia d'acqua rimasta dall'ultimo risciacquo anche i fiori sono dolci agliati e decorativi le siligue cioè i frutti finché sono tenere si possono mangiare altrimenti bisognerà aspettare l'arrivo dei semi di usarli come spezie anche la radice della pianta è commestibile e va raccolta all'inverno non l'ho mai raccolta e non credo che sia interessante raccogliere le radici di questa pianta ci sono altri prodotti in sostituzione non esistono controindicazioni nel consumo dell'aldiari sicuramente come per tutte le spontanee commestibili dei fiori ne ho fatto un uso moderato ricordarsi sempre questa è una frase che io ricordo sempre è la dose che fa il vedeno paracelso nel 1500 alchimista medico la ricetta della salsa di aldiaria pietolata anche questo è molto semplice una manciata di foglie un pugno di semi di girasole quindi come al posto magari di qualche frutta secca un cucchiaino di aceto sale olio evo pepe nero quanto basta la preparazione si lavano e si tritano finalmente le foglie di aldiaria dopodiché si pestano i semi di girasole e si amalgamano al trito aggiungete quindi l'aceto e un po' di olio evo infine salate e pepare a vostro piacimento e con questo ricamente la lezione l'avrei finita adesso vediamo sentiamo allora vediamo un attimo ecco qui potete fare qualche domanda interrompi ok ritornando alla rughetta anche quella selvatica io ho fatto degli esperimenti tipo perché tu hai detto che è preferibile non cuocerla invece ci ho fatto il risotto è venuto veramente buono l'ho messo chiaramente la rughetta l'abbiamo messa a metà cottura perché se no non veniva è venuto veramente un bel piatto alternativo sì sì sicuramente ma anche diciamo per fare anche delle sperimentazioni no delle delle prove io dico non l'ho mai mai cotta perché la rughetta nella nostra tradizione viene usata come diciamo nelle insalate no abbinata anche a carni a volte e e soprattutto per fare il pesto pesto crudo dove gli dà quel tocco suo quel sapore no con i glucosilonati quindi gli dà quella parte molto interessante anche diciamo parte diciamo nutrizionale no importante bene allora io io mi sono esibito con il risotto vi saluto ci vediamo la prossima volta grazie tanto ciao alla prossima ciao grazie scusami l'aria pettiolata è confondibile con qualche specie velenosa no ma la puoi confondere un po' visto c'ha la forma della foglia dell'ortiga ma hanno specie velenosa in questi in questi due giorni che sono andata a erbe in realtà mi sembra di averne trovata una ma non era fiorita pertanto non ero certa la foglia era identica anche la posizione come si dice il portamento dello stelo però non aveva sapore di aglio o non lo sentivo io o era talmente lieve di solito è abbastanza forte beh diciamo che dipende dallo stato di maturità non l'aveva fatto il fiore ancora avevano delle belle delle belle piantine di 25 30 centimetri non avevano ancora il fiore non ce l'avevano ma l'odore si sente anche il sapore dell'aglio si sente si sente forte e allora non era e le somigliava molto la raccoglierò e vedrò cosa potrebbe essere sì se mandi una foto andiamo sì eh vabbè grazie una domanda io guardando su internet mentre tu parlavi se la calendula c'era o meno qui in paraguai non l'ho trovata comunque non ho una idea magari magari in argentina poi vedremo però ho letto che diceva che era di utilizzo ristretto nell'unione europea cioè che si può utilizzare solo in piccole quantità perché secondo alcune direttive non è ancora deciso se è sicura o meno ma è strano perché anche nei prodotti appunto per i denti io l'ho visto la calendula cioè sì sì è infettante ma non l'ho mai sentito dire non mi risulta magari solo Google che è sbagliato appunto e le proprietà fitoterapiche beh molto adatta se si trovano anche in farmacia fanno queste creme allora puoi fare l'olio lito quindi con il discorso dell'olio potrebbe essere di mandorla ma anche olio extravergine d'oliva quindi fai l'olio lito oppure puoi fare anche una crema mettendoci la la cera d'api quindi diventa più solida e quindi la puoi spalmare diversamente però è sempre il concetto è sempre del suo principio che serve per curare la pelle quindi ustioni abrasioni quindi è utile per quello come anche l'iperico l'iperico soprattutto con l'olio lito si fa ma l'iperico c'è anche un uso medicinale anche per problemi diciamo stress depressione eccetera fa molto bene pensato anche per questo quindi si può ingerire ma si usa anche per all'esterno come medicinale in America c'è una richiesta grandissima di queste di queste piante dell'iperico perforatum che poi è una pianta chiamata poi la l'erba la classica erba di San Giovanni perché il periodo del diciamo dal 20 giugno in poi fa questi fiori che vengono usati per fare questi olioliti quindi se avete possibilità di trovarla prendete un po' di olio extravergine oliva la mettete in infusione riempite il barattolo di vetro con queste foglie con questi fiori sì con questi fiori i petali di fiori lo riempite con l'olio extravergine oliva lo mettete al sole per 40 giorni 40 giorni tira fuori il principio attivo l'olio diventa tutto rosso lo raffinate lo filtrate praticamente lo mettete in bottigliette scure lo mettete al buio e quando avete una scottatura un'abrasione lo spalmate e vedrete che sostituisce proprio è un miracoloso proprio rigenera anche la pelle io l'ho provato anche su di me succede qualche volta qualche scoriezione qualche scottatura eccetera volevo fare anche una domanda volevo chiedere i campi incolti oltre al fatto che uno per esperienza magari sappia che un determinato campo è incolto quindi che si possa andare a raccogliere delle erbe c'è qualcos'altro che mi può indicare che un campo diciamo sia sicuro che si ha incolto dipende se sono campi coltivati sicuramente se ci sono andati cereali quindi sono stati fertilizzati con azoto eccetera praticamente c'è la sostanza chimica quindi mi riferisco a un campo che sembra un prato insomma e come faccio a sapere se ma si riconoscono i prati quelli che sono prati che non vengono coltivati si riconoscono io praticando molto ad esempio gli oliveri bisogna fare attenzione che gli oliveri non vengano fertilizzati con la chimica ma lo si riconoscono perché intorno diciamo alla pianta alla base della pianta avete tutti questi granelli colorati invece quando vedete il letame dove oggi c'è forte tendenza io praticando gli oliveri da spello diciamo tutta la fascia olivata che va da Sisi fino a Spoleto praticamente sempre di più si vede il letame quindi è sostanza che va bene va benissimo perché non c'è la chimica anche questo bisogna dare ecco ora il letame dipende dove lo prendono se prendono nell'allevamento intensivo è pieno di antibiotici se prendono da quelli dai polli con tutti gli antibiotici che hanno sì lì diciamo che soprattutto le so quelle delle pecore quindi le pecore che maggiorano l'erba e anche le mucche no? quindi che non penso lì io le zone che pratico praticamente sono ancora quelle che vengono portate avanti come una volta non c'è questo allevamento intensivo dove no le bestie visto come le tengono per produrre ancora ancora si campa da noi troppo meglio io solitamente vado a cercare i prati stabili i prati stabili sì che non sono mai fanno sempre le erbe spontanee quindi fanno anche molte no quelle le erbe per le belle bestie per le bestie no? beh quindi in alpeggio se vai su in alto su in trentino lì sicuramente ci trovi delle cose buone io volevo chiedere una cosa che non riguarda le piante di oggi ma forse anche sì io dall'anno scorso ho cominciato a fare dei liquori un amaro ho fatto un nocino ho fatto un muscello però per l'amaro ho visto ho creato una formula che mi piace molto e piace molto anche agli altri pare però per la raccolta di piante ci sono piante che quando avrò tutte quelle che mi servono alcune non si troveranno più quindi oppure non avrò la possibilità di andarle a prendere faccio l'esempio ho un'amica che ha un cespuglio di Artemisia Absinthium e le ho chiesto se me ne dà qualche ramo ora lo conservo come in freezer o lo secco per utilizzarlo fra un poco non so fra 20 giorni penso beh dipende quanto tempo dopo seccato va bene seccato 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 va benissimo sì sì io uso molto le piante ufficinali le sicco tipo ad esempio il finocchio selvatico quando fai fiori fiori manche semi sambuco no non lo uso secco lo uso adesso che si trova ci facciamo delle tisane ci facciamo delle bevande rinfrescanti no io anche lo secco in realtà perché in inverno poi lo metto nelle tisane metto i fiori seccati però mi faceva avevo il dubbio che forse invece in freezer conserva di più le sostanze piuttosto che seccate non lo so perché io comunque uso l'essiccatore quello che uso anche per per i funghi ho seccato i cachi i funghi esatto però avevo il dubbio con l'assenza non so qual è il metodo con l'assenza non l'ho mai non l'ho mai usato esatto perché è uno dei 17 ingredienti ingredienti delle erbe delle erbe svedesi della della Maria Treben no 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 ho fatto io uno di mio con una miscela di erbe a mio gusto eh sì 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 ma infatti tutti questi rigori che si trovano anche industriali è lì un mix di erbe di queste erbe aromatiche che poi danno dei gusti no particolari pare che il mio semiglia il braulio che credo si faccia in Val d'Aosta non so sempre fatto con le erbe appunto però anche quello lo fanno a produzione limitata perché si basano soltanto sulla presenza delle erbe avendo raccolto le erbe in un momento in cui per fortuna c'erano tutte ma adesso non ci sono più le condizioni è cambiato il meteo è molto diverso dall'anno scorso e poi quando era marzo per esempio io ero blindata a casa non potevo andare a cercare le erbe in altitudine per esempio eccetera e quindi stavo pensando appunto di conservarvele man mano che le trovo ecco sì 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 in particolare ad esempio io quello che conservo sono le foglie e i fiori di malva ah sì quelli anche invece di andare diciamo in erboristeria a prendere le foglie secche per fare le tisane me la faccio con i fiori e poi non si sa se quelle che trovi in commercio diciamo vengono provengono da ambienti sani quindi tantissime no quelle anche il tiglio conservato fiori e foglie il tiglio benissimo certo sì ci sono diverse piante arboreche che hanno delle cose interessanti quindi sia frutti sia bene allora farò un esperimento farò un po' secco e un po' la metterò ecco prova la differenza se non sappiamo cambia va beh grazie bene allora se non c'è altre domande ci vediamo sabato sabato va bene bene allora buona buona serata buona serata buona serata a tutti buona serata ciao 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 a tutti ciao 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 ciao